Allora Manolo, così non litigate, 7 gol per noi e le tue calderine siamo a posto. Abbiamo fatto 15 gol in due, ho detto niente, no scherzo. È un bel gol. Ah, è un bel gol, è andata bene, per me è andata meno bene per la squadra perché comunque potevamo ottenere i tre punti, non ci siamo riusciti. Abbiamo avuto poca attenzione su quel calcio piazzato, magari dovevamo stare più candidati, non bisogna fare fallo, però nel calcio ci sta, abbiamo fatto una buona partita oggi, abbiamo dato tutto, l'ultima partita non era facile giocare. E poi siamo stati, meno male che il Messina, tra virgolette, ha vinto, se no c'era più rammarica ancora. Sì, perché se vincivi 1-0 non bastava, avresti dovuto vincere 2-0 per poter vincere il campionato. Sì, infatti, come dici tu, è andata così, non possiamo dire niente, abbiamo fatto un buon campionato, anche se si poteva fare di più perché le potenzialità della scuola che abbiamo noi sono molto ma molto maggiori di quello che abbiamo fatto. Secondo me potevamo fare molto meglio, però va bene, abbiamo raggiunto l'obiettivo, siamo stati la prima scuola del girone a raggiungere la salvezza, quindi siamo orgogliosi, fieri di noi stessi, dei tifosi, di chi ha costruito la squadra, di tutti. Partiamo dal magazziniero a finire all'ultimo giocatore, quindi adesso ci vediamo, vedremo quando dobbiamo stare qua, penso a una sette, io ci sto sempre, perché sto di qua, vediamo i ragazzi quando diranno ci sarà il rompete le righe, faremo mi sembra un amichevolo 2, e poi andremo a casa e ci godiamo questa salvezza. Salvezza che poi significa C1, C unica? Significa guerra, significa un campionato, un'abitura. Significa guerra perché l'anno prossimo sarà molto ma molto dura perché sono squadre veramente attrezzate, squadre blasoni dove hanno un certo nome, non so, non vedi a giocare alla reghi, 20.000 persone, al ceravolo, a un derby sentito come quello col Cosenza, so, guerre, peggio, Lecce, se Lecce non va su, e quindi bisogna programmare, costruire, pensare al futuro nel migliore dei modi perché sembra che manca tanto, ma alla fine i giorni passano velocemente, quindi dobbiamo cercare di allestire una squadra prima possibile. Cosenza ha fatto festa a gennaio, praticamente a febbraio, al centenario, perché praticamente ha vinto il campionato, un campionato anomalo possiamo anche dirlo, e Manolo Mogelo, che bilancio tira di questo campionato? Ma, bilancio generale, collettivo, molto positivo, bilancio personale ovviamente un pochino meno perché so che comunque potevo fare molto meglio, è ovvio che non è da buttare quello che ho fatto perché comunque ho fatto sette gol, ho fatto anche qualche cinque, sei assist, quindi alla fine non è che è un campionato dove ho fatto zero gol, non mi posso nemmeno buttare così giù. Sicuramente so che posso fare molto, ma molto meglio, anche perché in questi due anni forse ho abituato troppo bene. Possiamo anche aggiungere che il gioco di Cappellacci con tre punti è un po' benese agli attaccanti, con Cappellacci non si va a doppia cifra facilmente. Ma, adesso lascio dire a voi, io sono un attaccante, oggi sono andato a sinistra, mi ha spostato a destra, cerco di fare quello che mi dice lui, però ovviamente se gioco davanti è normale che posso, sono più vicino alla porta e posso fare gol. Un saluto a tutti quanti per questo campionato vinto? Un saluto a tutti, ringrazio tutto, come ho detto prima a partire dalla magazzina fino all'ultimo giocatore, ringrazio i tifosi, la società, i mister, tutti quanti, quindi un saluto a tutti quanti e speriamo di rivederci il prossimo anno.